Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 per ripristino di un incidente si segnalano 6 km di coda in diminuzione tra l'allacciamento con l'A11 e Firenze in Pruneta in direzione Roma e 2 km di coda in diminuzione tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Verso Roma rallentamenti tra Firenze e Impruneta in Cisa Reggello, in direzione Bologna chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezza del tratto tra il bivio con la variante di varico Baccheraia e Aglio. In A11 in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Fipili per lavori 2 km di coda tra Empoli e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze ed entrata chiusa a Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!